Ti abbiamo letteralmente tirato fuori dal campo Ezio, com'è andato questo anno? Allora è stato un anno entusiasmante perché abbiamo iniziato l'attività con alcuni maestri argentini che ci hanno dato un upgrade sicuramente all'attività del circolo. Abbiamo fatto anche la Serie C quest'anno ottenendo la permanenza nella categoria. Proveremo il prossimo anno a fare un saltino in avanti, speriamo che i nostri giocatori nuovi ci diano una mano. Ci fai un po' la panoramica di com'è organizzata questa società? Noi siamo un'associazione abbastanza longeva, i nostri campi sono tra i più antichi, i campi di tennis stiamo parlando, tra i più antichi della città, nasciamo nel 1966, poi l'avvento del padel ha un po' trasformato quella che era l'identità del circolo, adesso facciamo sia padel che tennis, siamo anche concessionari dei campi di tennis di ricevetta, noi siamo disponibili a dare la nostra disponibilità laddove sia necessario e con tanta tanta passione. Abbiamo un pacchetto di soci importanti che ci seguono, che sono fidelizzati e che ci danno una grande mano all'attività del circolo. A questo punto vi chiedo cosa bolla in pentola per il nuovo anno? Il prossimo anno il sogno, sempre considerando quella che è la nostra identità, quindi un circolo che vuole fare goliardia, divertimento, far divertire i soci. Abbiamo anche la nostra squadra di Serie C, che è il nostro fiorallocchiello, siamo l'unica squadra insieme a Mazzara della Sicilia occidentale, scusa Palermo, che fa la Serie C. Speriamo con questi nuovi giocatori di riuscire magari a salire in Serie B, è un sogno nel cassetto, però nulla ci è precluso. Quanto è cresciuto e quanto magari crescerà secondo te ancora il padel nel nostro territorio? Il padel ha avuto un'espansione pazzesca in Italia nel 2018-2019, poi la pandemia paradossalmente ha dato una mano al movimento perché la federazione ha riconosciuto al padel l'identità di gioco individuale, pur essendo un gioco di coppia, e così era possibile in quel periodo pandemico giocare soltanto a padel e a tennis. E quindi quello è stato un periodo fortunato addirittura per il padel, con una crescita esponenziale sia dei campi che degli appassionati. Adesso il movimento ovviamente non poteva continuare a crescere in quel modo, si sono riaperte le palestre, si sono riaperto il calcetto, il basket, quindi chi ha lavorato bene continua a fare un certo tipo di attività e a Trapani ci sono delle belle realtà, oltre alla nostra. Chi invece magari non ha avuto questa forza soffre di questo momento di stasi del movimento, non è in forte crescita e non è in decrescita, è un momento di stasi.